Un'asse tra Calabria e Toscana, finalizzato al riciclaggio di ingenti somme di denaro di provenienza illecita, ha percorrere a ritroso il flusso del denaro la Procura di Firenze, che è riuscita ad identificare i protagonisti di un giro di attività illegali, ricostruito grazie anche all'azione congiunta di Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia. L'operazione, denominata Beccodoc, ha portato alla denuncia di sei soggetti, quattro originari di Strongoli nel Crotonese, uno della provincia di Cosenze e uno del Bolognese. Per uno degli indagati, un imprenditore calabrese di 80 anni, residente a Strongoli, ma domiciliato in Toscana, è stata disposta alla detenzione domiciliare con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Le indagini hanno preso il via da una decina di operazioni finanziarie sospette effettuate dagli indagati tra il 2009 e il 2014. I componenti dell'associazione Delinquere, questa è l'accusa mossa dalla Procura di Firenze, negli anni hanno ripulito il denaro sporco, acquistando esercizi commerciali, quali bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie attivi a Firenze e Prato. Attraverso queste attività, il denaro veniva riciclato e poi riammesso nel circuito dell'economia legale. Loredana colloca per la CNews 24.